L'ESP ha un sapere molto esperienziale, quindi quando ci sono determinate situazioni di crisi o comunque situazioni importanti, ci sono i professionisti, insomma noi siamo di supporto non sostituisce assolutamente altre figure, anzi ha senso se integra e poi credo anche che gli esperti possano essere una risorsa grande, esseri servizi, quelli che conosco io fanno anche fatica, hanno poche risorse eccetera, i professionisti possono in alcuni ambiti essere di supporto, essere d'aiuto, accompagnare, fare una visita, andare al cinema, insomma sono tutte quelle cose che magari liberano gli operatori Si può creare una bella sinergia, ecco, non rispettando il suo cuore Prego Direi che il gruppo di interiuncio